Sono in compagnia di un amico, di un grande artista, Maurizio Litelli, un grande anche amico degli animali. Beh sì, molto. Più cane o più gatto? Lo devo dire perché è una cosa fresca. Ho avuto per 15 anni e mezzo una cane che è morta stamattina. Quindi sono molto addolorato e ho avuto un rapporto bellissimo. Però ho avuto anche gatti, ho portato gatti, un altro cane prima, tanti anni fa, e quindi tutto è buono. Adesso non vorrei toccare appunto un tasto doloroso, però questa cagnolina che è stata accanto a te per 15 anni, come si chiama? Bea, Bea Teresina. Che cosa ti ha dato di indimenticare? C'è una frase famosa che citavo prima con un amico Michele, dicevo, un grande scrittore ha scritto, se uno non ha mai avuto un cane non sa cosa vuol dire essere amato. Avrai un altro cane? No, non lo sai, però esso dobbiamo aspettarvi. Saluti agli amici di Animai e Animali. Ciao a tutti gli amici di Animali e Animali. Ciao.